ci troviamo a senago questa è la chiesa parroquia di santa maria nascente abbiamo un concerto di sette campani sei campani più semitono che adesso ascolteremo il segnale i rintocchi del segnale orario delle ore 18 ovviamente toccherò senza chiedere permesso al parco a a a a stand the life stand the life a Grazie a tutti. Grazie a tutti.